Ehi la, bella a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati su Amnesia Live. Nuovo video ragazzi, benvenuti, bentornati, come avrete capito dal titolo, oggi veniamo a parlare per la prima volta di sedie da gaming con una tier list by Amnesia. Faccio questo video ragazzi perché soprattutto in live, stranamente, c'è stata proprio una concentrazione di voi che mi avete scritto che si stanno rompendo le vostre sedie da gaming come se piovesse. Tra l'altro questo è un video che vi avevo promesso tempo fa, se avessimo raggiunto i 50 like, quindi promessa mantenuta e soprattutto ragazzi ci sarà una tier list by Amnesia, ci saranno quelle che secondo me sono le migliori sedie da gaming, ci saranno quelle da comprare, quelle da non comprare. E perché ovviamente la sedia da gaming, che ci crediate o no, è una componente fondamentale della nostra postazione ragazzi, soprattutto i pro effettuano anche delle modifiche o le vanno a scegliere secondo alcuni precisi criteri. Quindi mi raccomando mettete like adesso prima che ve lo dimenticate, soprattutto se non volete buttare soldi nel cestino, perché vi rinnovo l'invito con un video che vi avevo proposto tempo fa, se arriveremo a 50-100 like in questo video ragazzi voglio portarvi un video sull'esatta inclinazione del vostro monitor da gaming, inclinazione, distanza e altezza del vostro monitor. Ma non sarà tutto qui perché vi farò scaricare anche un'app con cui voi stessi potrete tranquillamente misurare gli esatti identici gradi, altezza e profondità di inclinazione del vostro monitor in base a quello che fanno i nostri amati pro player. Sì, ancora una volta i nostri pro. Anch'io ho cambiato di recente sedia da gaming, la mia la vedete alle spalle, non è una sedia, è un trono ragazzi. Io vi ricordo che per ragione di registrazione e editing di video del nostro canale YouTube Amnesia Live, così come coaching, boost FPS, gioco e live, ok, io sto 12, 13, 14 ore al giorno e il mio culetto ringrazia, vi posso garantire, è seduto sulla nuvola di Goku. Cominciamo subito. Cominciamo subito tesori miei e cominciamo dalla mia sedia da gaming. Eccola qua ragazzi, che tra parentesi mi si rompesse domani mattina io me la ricomprerei uguale e tra l'altro vi posso garantire che è davvero diminuita di prezzo un botto ragazzi, ma ovviamente andiamo a spiegare il perché io o un pro player sceglierebbe una sedia del genere. Cominciamo dal dire prima che me lo dimentico che questa sedia ha un cuscino che vibra, ok, ed è una sensazione veramente meravigliosa. Ma qual è la parte fondamentale di una sedia da gaming? Voi direte il cuscino, la spalliera, l'altezza? Assolutamente no. Ovviamente io quando vi faccio un video di qualsiasi genere inerente, ovviamente la materia da gaming, vi parlo sempre dalla mentalità di pro, ok? Io non sono un pro, infatti sono amnesia, ma di conseguenza non vi darò mai la mia opinione. Io guardo sempre quello che fanno i pro player e la parte più importante di una sedia da gaming sono i braccioli. Difficilmente noi possiamo vedere un pro player o anche un giocatore professionista, un conte creator che gioca con i gomiti, ok, poggiati non solo sulla nostra scrivania, ma anche sui nostri braccioli della nostra sedia da gaming. Perché il gomito deve essere libero, ok? Semplicemente libero di muoversi e di fare le giuste regolazioni, altrimenti rinunciate al movimento che vi aiuta ovviamente a mirare e a traccare di avambraccio e spalla. Ovviamente se vedete il mio avambraccio dal gomito al polso lo dividete per due dal momento che ognuno di noi ha un braccio diverso in lunghezza l'uno dall'altro, dividete dal polso al gomito per due e sapete esattamente che metà deve stare sulla scrivania, metà deve stare fuori dalla scrivania. Da lì potete regolare senza dubbio l'altezza e la distanza della vostra sedia rispetto al bordo della scrivania. Come possiamo vedere questa sedia ha dei braccioli che sono totalmente diversi e qua io vi do una notizia che è anche una garanzia. I pro player quando comprano una sedia del genere, questa tra l'altro è da non comprare assolutamente, tra poco spiegheremo perché, i braccioli li tolgono, ok? Ho visto tanti troppi tornei di Valorant e di Counter Strike soprattutto di pro player che anche per poter entrare sotto la scrivania fino a toccare col pancino il bordo della scrivania tolgono del tutto i braccioli anche per non avere la tentazione di appoggiare il gomito. Tra parentesi ragazzi la postazione di un giocatore per esempio da controller, vedete che sono sempre ingobbiti, ok? E giocano per esempio col controller in mezzo alle gambe e sono proprio ingobbiti, attaccati sullo schermo, ok? Quindi sul nostro monitor da gaming. La stessa cosa vale per i giocatori da mouse e tastiera. Diversamente di quanto si potrebbe pensare giocare in modo serio a mouse e tastiera, esige una postura che non è affatto comoda, ok? E' una postura molto precisa come per esempio il braccio non deve essere sdravaccato sulla scrivania ma deve essere leggermente sollevato quasi avessimo una lievitazione magnetica e di conseguenza soprattutto per chi alle prime armi potrebbe avere appunto la tentazione di appoggiare il braccio appunto sul bracciolo della nostra sedia oppure inclinare all'indietro la spalliera che invece deve essere perfettamente dritta per quanto riguarda la nostra sedia di gaming. Quindi quando voi giocate anche troppo comodamente dovete avere una mentalità da chilling, state giocando per chillare perché giocare in modo serio esige appunto avere una postura che è tutt'altro che comoda così come per qualsiasi giocatore professionista da pad sebbene uno col pad può giocare anche sdraiat al letto. Ma se comunque proprio magari siete abituati a giocare con le braccia e il gomito appoggiato appunto sul bracciolo della vostra sedia sappiate che comunque non è creato se vuoi fare ed è qui che io vi consiglio esattamente questa sedia perché se noi torniamo per esempio per un attimo a questa sedia qua vi posso garantire che indipendentemente dalla cifra che voi andate a spendere quando comprate una serie da gaming i braccioli si muovono ok? Si muovono, tremano e si muovono tutti ok? Quindi assolutamente avremmo bisogno di braccioli che sono ben saldati e avvitati quindi che si muovono solamente in base all'inclinazione che noi abbiamo con la nostra sedia quando stiamo giocando. Questa sedia è assolutamente spettacolare perché intanto ha un cuscino lombare, ha un cuscino cervicale e ovviamente i braccioli sono praticamente immobili proprio perché su due punti ogni bracciolo destro e sinistro viene abbullonato e avvitato. Questa è una chicca che non è assolutamente obbligatoria. Per esempio ho visto che molti pro player usano comprare dei diciamo dei tappetini non da mouse ma da mettere sotto la sedia dal momento che per esempio le sedie da gaming non hanno il blocco dietro ogni rotella ok? E quindi abbiamo magari la sensazione di muoverci avanti indietro a destra e sinistra semplicemente anche quando ci sistemiamo a livello di postura. Quindi per esempio avere e comunque abbastanza snervante continuamente andare avanti e risistemarsi quindi per chi tra di noi ha l'esigenza di toccare con la pancia il bordo della scrivania si fa davanti indietro è un po' fastidioso quindi comprano per esempio basta un qualsiasi tappeto che genere il giusto attrito in modo tale e credetemi anche questo vi cambia la vita anche perché per esempio molti pro player anche durante tornei valorant counter strike o anche giocatori da pad giocano scalzi quindi anche in un torneo l'anno in tempo reale con migliaia di persone tolgono le scarpe e giocano scalzi di conseguenza avere un tappeto o per esempio un poggiapiedi nel caso che voi magari avete la scrivania troppo bassa o troppo alta e quindi sentite l'esigenza di alzarvi ulteriormente avere appunto anche un poggiapiedi o sia il tappeto che il poggiapiedi vi posso garantire che vi sentirete proprio ben piazzati di fronte alla vostra postazione il cuscino su cui poggiamo appunto il nostro sederino ora in live di recente il motivo per cui mi sono svegliato e ricordato che vi avevo promesso se avessimo raggiunto i 50 like questo video è il fatto che col tempo il pistone ok quindi questa parte qua vi entra proprio lì praticamente il cuscino comincia ad assottigliarsi e sentite proprio il pistone che vi sta entrando lì il che è davvero fastidioso e anche doloroso personalmente io per ragioni di coaching di live gioco diverse ore faccio registrazione editing dei video che voi state vedendo e vi posso garantire che io ormai per ragioni di rassegnazione di lavoro io sto seduto di fronte al computer 12 13 14 ore al giorno e che succede succede che con la mia precedente sedia da gaming voi non vi potete immaginare i nervi perché essendo una porcheria di sedie tra poco vi spiegherò soprattutto quali non dovete comprare appunto io già dopo 45 minuti io ero morto dal dolore dal fastidio mi muovevo mi alzavo mi risiedevo e da lì ovviamente ho scoperto che è anche possibile per esempio comprare un cuscino come quelli delle sedie a rotelle ok e davvero sono dei cuscini quadrati sono dei cuscini molto spessi esattamente come quelli della sedia a rotelle delle nostre carrozzelle e ovviamente ci sono i memory in lattice i gomma piuma la regola è che più spesso e duro è meglio è perché durerà anche di più e non costano neanche tantissimo ma qui viene il succo del nostro video la parte più importante prima di andare a procedere con la nostra tier list come potete vedere il cuscino di questa sedia e il cuscino di questa sedia cosa possiamo notare due cose fondamentali questa sedia sapete quanto vi dura se voi la comprate potete anche vedere quanto costa sapete quanto vi dura tre mesi se siete fortunati nove mesi e se vi piace proprio il dolore potrete durare fino a un anno questo per due motivi fondamentali il primo il cuscino è troppo sottile quindi già dopo tre quattro sei mesi ovviamente dipende dal peso di ognuno di noi io per esempio mi sono messo a dieta ero 85 chili ora peso 78 chili anche per questo motivo perché comunque la sedia deve reggere il nostro peso quindi già capite che se ovviamente pesate 90 chili 100 chili o comunque siete in sovrappeso la sedia automaticamente vi durerà di meno perché sorregge un peso non indifferente a parte che anche per lavarsi la coscienza in molte sedie così come abbiamo parlato per esempio nel video della tier list dei mouse non dicono scrivono molto piccolino per esempio questo mouse ha raggiunto questi livelli di prestazioni ma sul nostro tappetino ok quindi non garantiamo se voi per esempio lo utilizzate su un tappetino di vetro la stessa cosa vale per le sedie piccolo piccolo nei siti ufficiali c'è scritto fino a tot peso dopodiché dopo tre mesi la dovete cambiare e come potete vedere già la differenza non solo di prezzo ma anche proprio di costruzione per non parlare anche di estetica ok come possiamo vedere non è assolutamente di poco conto tra l'altro questa sede è dotato anche di un cuscino che vi permette ovviamente di poter appoggiare i piedi nel caso di sicuro non per giocare ma di sicuro se la utilizzate magari anche per farvi un sonnellino e ci ho anche fatto dei sonnellini su questa sedia è veramente la nuvola di Goku per il vostro sederino e potete tranquillamente uscire questo 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 cuscino ok e sdraiarvi e magari guardarvi una live sul del vostro pro player preferito anche una serie tv quindi fate attenzione al cuscino vedete quanto è spesso questo cuscino è qualcosa di incredibile veramente molto molto spesso rispetto per esempio a questo cuscino veramente minuscolo come vedete il cuscino è piatto questa è una cosa che solamente una persona intelligente ci può fare caso perché invece volendo simulare diciamo il sedile di una macchina da corsa le sedi da gaming hanno questo rialzo qui quindi che succede succede che se voi magari comprate questa sedia a questo prezzo ok e dopo magari sei mesi il pistone sta letteralmente bucando il sottilissimo cuscino magari una persona dice compro un cuscino tiro un altro anno tiro altri sei mesi non lo potete fare perché dovreste farvi fare un cuscino su misura che entri dentro questi due rialzi dove c'è la freccetta a destra e a sinistra mentre invece questa sedia per esempio questa sedia tra poco andremo a vedere delle altre ha un cuscino che si adatta perfettamente anche ad altri cuscini che tra l'altro standard per quanto riguarda le sedie rotelle e quadrati quindi il cuscino non viene schiacciato in modo concavo all'interno ma rimane perfettamente dritto appunto sopra il cuscino originale della sedia personalmente e non ce n'è bisogno io ho comprato anche un cuscino sia per essere anche leggermente più alto e quindi poter abbassare di più la sedia perché apriamo una parentesi anche per una questione di stabilità di piedi di mira vi ricordo che le ginocchia non devono mai essere più alte del sedere ok altrimenti non giocate bene la postura è totalmente sbagliata e soprattutto come possiamo vedere in questa foto tutti i pro player dico tutti i pro player abbassano la sedia al minimo questo anche perché tutti i pro player hanno appunto delle sedie delle scrivanie molto basse io questo l'ho imparato da tifio e l'ho imparato da power quando in una live accavallando le gambe praticamente la scrivania gli arrivava ben sotto il ginocchio provate voi ad accavallare le gambe fuori dalla vostra scrivania e misurate il ginocchio se supera la vostra scrivania e quindi voi giustamente vi potreste chiedere allora quanto deve essere alta la mia scrivania ecco quella che state vedendo in questa foto per esempio è orribile è troppo alta ok partiamo dal presupposto che una postazione da gaming a una distanza che vada sotto il nostro petto perché ognuno di noi è alto in modo diverso fino all'ombelico ma la mia arriva addirittura sotto il mio ombelico e praticamente struscia sulle mie cosce con la sedia totalmente abbassata stiamo parlando di qualcosa di fondamentale non solo per imitare i nostri pro ma anche per avere una mira da pro ok altrimenti ha voglia di allenarti se non abbiamo anche le giuste misure ma comunque questa sedia si può alzare oltre l'invero simile ok quindi non temete assolutamente di non poter alzare quanto vi serve la vostra sedia il che però potrebbe rendervi leggermente instabili veniamo adesso appunto a questa sedia della Razer che tra parentesi soprattutto in fatto di mouse e anche di tappetini è la mia marca preferita ma per i motivi che abbiamo spiegato questa sedia ma tra poco ce ne saranno altre anche di Razer che invece comprerei se avessi soldi domani mattina ecco questa o come questa è assolutamente da non comprare e se la comprate sapete che vi dura da 6 a 9 mesi massimo un anno tranne che pesate 40 chili e avete 12 anni sappiate che comunque dovete togliere i braccioli perché si muovono e quindi con il gomito che traballa su un bracciolo traballante non si può giocare proprio non si può fare quindi per questo motivo come vi ho detto poc'anzi i pro player tendono a togliere del tutto i braccioli cosa che non si può fare in questa sedia perché rimarrebbero praticamente gli spuntoni fuori non esteticamente gradevole comunque togliete l'utilità di questa sedia che appunto avere dei braccioli praticamente immobili ma un'altra cosa da notare ed è il motivo per cui non dovreste per esempio comprare questa sedia è la spalliera cioè ma vi rendete conto di quanto è sottile questa questa schieniera chiamiamola così perché come nel caso del cuscino base vale la stessa cosa anche con la schiena ovvero col tempo bucate spaccate letteralmente ingobbendo la stessa sedia ok stando seduti ore e ore e ore poi è palese che se voi comprate questa sedia anche se non ve la consiglierei neanche morto questo tipo non grazer la marca questo tipo di sedia giocate mezz'ora due ore al giorno se boffa ma perché non spendere molto di meno e stare comunque comodi anche 12 13 ore al giorno ve lo dice uno che lavora al computer 12 13 ore al giorno mentre invece questa sedia qui come possiamo vedere intanto mi raccomando di tenere sempre d'occhio le dimensioni le dimensioni di una sedia sono sempre fondamentali e questa è una ditta veramente serie level range ok quindi il range di altezza ma anche di peso e ovviamente vi fornisce anche tutto ovviamente ci tra poco ne vedremo altre ma ci concentriamo su questa perché è quella che ho comprato io ok e ovviamente qua vi spiega anche come è fatta ok quindi il cuscino come è fatto il fatto che tra l'altro essendo proprio fatta bene non scalda il vostro sedierino non scalda e calcolate che io ho un cuscino sull'altro cuscino e sto veramente da dio proprio perché il cuscino di questa sedia come quello che io ho comprato della sedia a rotelle non è un cuscino unico ma è fatto proprio così e che ci crediate o no è questo il segreto che non vi fa sudare io ormai è da quando ho comprato sta sedia che non sudo mentre prima sudavo con l'altra sedia proprio perché addirittura la mia precedente sedia aveva un cuscino che era praticamente un pezzo unico e dentro questo pezzo unico era pieno di molle e in più c'era il pistone una tortura medievale mentre invece questo cuscino come potete vedere è fatto di tanti diciamo cilindri in gomma gomma piuma memory quello che è dentro ognuno c'è una molla facilissima da montare l'ho montata da solo ragazzi in meno di 20 minuti l'ho montata io da solo nel mio soggiorno ma allo stesso tempo dovete montarla come si deve quindi seguite bene le istruzioni tra l'altro su youtube trovate anche chi ha comprato e ha montato questa sedia quindi molto semplice da fare da capire perché altrimenti rischiate di romperla per quale motivo un altro motivo fondamentale il fatto che questa sedia ha una doppia inclinazione cioè potete inclinarla e bloccarla oppure ve lo faccio vedere ok cioè l'inclinazione rimane letteralmente libera quindi io per esempio sto giocando mi uccidono mi rilasso la voglio bloccare la blocco così ok quindi dovete montarla bene altrimenti si rompe questo meccanismo è certo ma vale ovviamente per qualsiasi sedia infatti qua vi fa vedere che ha una doppia leva per la doppia inclinazione andiamo avanti con un'altra sedia che io vi consiglio assolutamente sia per lo spessore del cuscino sia perché effettivamente se io diciamo tra virgolette potessi tornare indietro preferirei una sedia con i braccioli del genere ma solo per poterli togliere allo stesso tempo io ve la consiglio per questo motivo è di un'altra marca ma è assolutamente spettacolare e comunque il cuscino ha uno spessore non indifferente soprattutto l'unica pecca sono sempre quei diciamo rialzi laterali per simulare appunto il sedile di una macchina da corsa in questo caso tra l'altro possiamo anche scegliere il colore e personalmente io ritengo che questa sedia sia veramente una bomba esteticamente quasi più bella di quella mia più comoda sicuramente sì sebbene comunque perché lo vedo fatto di un materiale più asciutto ok e infatti non è un caso che costa anche di più come potete vedere rispetto alla mia non è necessario spendere 700 euro 300 euro per una sedia da gaming ok come potete vedere questa in live quando io me l'avete chiesto ve l'ho fatta vedere per la prima volta l'avete definita un carro armato ed effettivamente è una bomba questa sedia ma diciamo che se io dovessi cambiare sedia domani mattino la ricomprerei uguale o mi comprerei questa qui sebbene costa praticamente il doppio andiamo ad un'altra sedia che io vi consiglio e sempre per gli stessi motivi esteticamente è una bomba la vedo fatta di un materiale molto asciutto soprattutto nel cuscino in questa parte qui e chi lo sa che questa parte non sia comunque anche traforata per garantire la giusta traspirazione cosa fondamentale ha un cuscino lombare che secondo me anche migliore del mio che è rettangolare trema non trema chi se ne frega la manifattura mi sembra assolutamente spettacolare sulle rotelle non ci giurerei le vedo abbastanza lisce ma soprattutto guardate il cuscino quanto è spesso non ha i rialzi potete metterci sopra un altro cuscino anche preso da un vostro divano per capirci e ovviamente la prima cosa che io farei sarebbe togliere i braccioli anche in questo caso possiamo scegliere la giusta colorazione ok io personalmente così o rossa è veramente una bomba la giusta altezza l'inclinazione le misure e qua tra l'altro vi spiega diciamo gli strati del cuscino altra sedia ragazzi in due colorazioni che io vi consiglio assolutamente e sempre per lo stesso motivo e che tra l'altro è molto simile alla mia per quanto riguarda i braccioli ecco vedete per esempio che in questa foto va a spiegare quanto è lungo e quanto è profondo e quanto è largo il cuscino informazione fondamentale perché se invece di 50 e 40 o 35 magari è una sedia per bambini o bisogna vedere anche la vostra corporatura non solo l'inclinazione per esempio vi specifica che fino a 150 kg questa sedia regge quindi se state sotto i 100 non solo a livello di comodità ecco per esempio lo scheletro lo scheletro che c'è all'interno di una sedia da gaming è praticamente identico e molto simile a quella che c'è all'interno di un sedile di una macchina da corsa anche in questo caso è come nel caso della mia sedia e delle altre che vi ho consigliato di prendere assolutamente la durabilità la morbidezza soprattutto perché aprite bene le orecchie d'estate magari giocate in costume in mutande in pantaloncini ecco avere anche il giusto tessuto con la giusta traspirabilità non è una cosa da diciamo sottovalutare e ancora una volta possiamo vedere come praticamente identica la costruzione del cuscino quindi diversi cilindri in gomma dove all'interno c'è una molla con ben tre strati a copertura e a morbidezza della nostra comodità sedia che sinceramente ho visto a qualche pro i braccioli li possiamo togliere il cuscino non è diciamo spessissimo ma ho diciamo la sensazione che questa sedia qui infatti è 53 io ad occhio già ho capito sto cuscino è più largo quindi è più largo e soprattutto potete di conseguenza mettere non avendo il cuscino lombare un altro cuscino sopra più spesso e addirittura più grande soprattutto se togliete i braccioli diciamo che questa è una sedia ergonomica per eccellenza lo sono anche le altre ma questa ancora di più perché ha diverse regolazioni in base anche qui alla parte lombare ok quindi è una sedia che si può personalizzare in ogni sua parte sinceramente era la mia seconda terza scelta ok la cosa che mi interessa e che mi incuriosisce di questa sedia ecco come vedete il fatto che il bracciolo deve fare su giù avanti indietro è anche inclinato se muove se muove che è una meraviglia non si può giocare fidatevi di me quindi se comprate una sedia così la prima cosa è che non dovete montare i braccioli assolutamente anche perché così vi insegnate a giocare a una una schieniera che praticamente è un velo o una rete ok e di conseguenza praticamente certo che non solo la comodità ma sicuramente neanche si suda chiudiamo con una bomba che era la mia prima scelta se io avessi avuto i dindini questa secondo me è la migliore sedia the gaming del mondo perché veramente ragazzi ha una spalliera che è praticamente quanto il muro bunker di una banca cioè soprattutto la spalliera è veramente veramente enorme ok come vi ho già detto all'inizio casa razor è la mia preferita ok tra l'altro io questa sedia ho avuto la possibilità di vederla ed è tipo vellutata morbida invece nella parte della spalliera è dura anche qui guardate come ha letteralmente il cuscino più spesso che io abbia mai visto ok e ovviamente il prezzo non è indifferente diciamo che tranquillamente oggi domani dovesse diventare ricco e famoso grazie a voi grazie a youtube la prima cosa che farei sarebbe comprarmi questa sedia ok ovviamente mi raccomando di tenere sempre d'occhio le recensioni di leggervene qualcuna perché come possiamo vedere vi può piacere o meno è praticamente letteralmente ginsata ok questa sedia evitiamo comprando una buona sedia di gaming ovvero quelle che vi sta consigliando amnesia di non distruggere la vostra colonna vertebrale potete vedere la scrivania dove arriva ok come potete vedere gli arriva esattamente all'ombelico poco sopra l'ombelico quindi non gli arriva sotto il petto sebbene da sotto il petto all'ombelico sotto l'ombelico è assolutamente perfetta come potete vedere la spalliera è perfettamente dritta quindi non si gioco come sto giocando io adesso che sono praticamente stravaccato e sto registrando il video come possiamo vedere una curva c'è il protende a ingobbirsi un pochino sia ovviamente da pad che anche da mouse e tastiera l'unica cosa che io non condivido di questa illustrazione è il fatto che appunto anche perché si muovono 100 per cento anche con una spesa del genere ovviamente il bracciolo bracciolo andrebbe tolto lui dovrebbe spingersi quasi fino a toccare con il bordo della scrivania il suo pancino e quella è una signora postura da gaming o comunque come fanno i pro player se poi la scrivania si potesse anche abbassare leggermente fino a strusciare ovviamente sulle cosce sarebbe letteralmente il top come possiamo vedere c'è il monitor il monitor così non si mette c'è la giusta inclinazione giusti gradi di altezza profondità e distanza dai nostri occhi ed è un argomento molto importante che io vorrei affrontare tra l'altro è messo anche troppo lontano diciamo qualcosa che io vorrei affrontare se arriveremo a 50 100 like in questo video perché con un app posso tranquillamente farvi misurare a casa vostra direttamente nel vostro monitor l'esatta inclinazione in gradi che usano i nostri pro player e dunque anche questo è fatta ragazzi anche questo è fatto ragazzi vi mando un bacio mi raccomando like commento iscrizione condivisione massimo supporto per il vostro amnesia vi ricordo che in descrizione trovate il link del nostro server discord altrimenti se siete interessati ai nostri servizi coaching boost fps discord amnesia live a grande tre al post delle abbonatevi se invece sono cose che possiamo risolvere a voce con e fugare ogni dubbio e consiglio in pochi minuti vi abbonate potete parlare con me tutto il tempo che volete io vi mando un bacio lei il secondo vi abbraccio tanto ci vediamo al prossimo video ciao a tutti